54? Eh no, 51. 3? 53, ora è il mio fratello. Sì, nel gruppo sì. Allora sei su 71 e abbondante, no 70 abbondante. Già fatti. Comincia a diventare amico di Garganella come te. Ma figlia sto così bene adesso, perché mi devi rompere il cuore? L'ho mandato via, l'ho mandato via, l'ho mandato via perché se no ce l'avevi nel gruppo. Porco Dio. Ti è rimasto solo lo zanti e basta. Quando stavo bevendo l'acqua gli ho detto, tu hai ragazzo in coppia che hai tutta la bottiglia. Esatto. Che l'asam lì, io c'ho il cazzo, l'asam della madonna che è lì. Ragazzi arrivate al traliccio e dovete mettere un white point. Al traliccio devi mettere il white point, guardi il numero del traliccio. Questa è la vecchia centrale. C'è anche lui che l'aveva detto, che aveva detto, ma il cazzo che sono qua, non rompemi i coglioni. E' bella delitto, le bambine. Tu devi vedere cosa fa la simbote. Non ti permetto per fare questa ripresa. Ormai è mezz'ora che sto riprendendo. Il problema sono quelli con il monopatino pericolosi. Possiamo solo peggiorare e basta. Oh ma gli altri va che sono lontani eh. Traliccio, due tralicci. Quindi bisogna fermarci e fare il white point. White point, spampi. Dobbiamo segnare il numero del traliccio di modo che abbiamo la posizione giusta.